se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia un like fin dalla sua infanzia veronica dimostrò una grande intelligenza e vivacità di spirito doti che le permisero di ricevere un'istruzione molto superiore a quella media delle donne dell'epoca nonostante le norme sociali impedissero alle donne di entrare nell'università veronica dimostrò una fervente passione per la letteratura e la filosofia studiando da autodidatta e approfondendo le sue conoscenze attraverso i numerosi libri presenti nella biblioteca di famiglia la sua intelligenza combinata con il suo carattere deciso fecero sì che veronica non si rassegnasse al ruolo di mera spettatrice nella gestione delle faccende di famiglia divenne una donna di forza e influenza capace di prendere decisioni importanti per il bene della sua famiglia non esitò a sfruttare le sue conoscenze e il suo ingegno per proteggere e aumentare il patrimonio di cibo malaspina spesso andando contro gli interessi di altri nobili la sua scesa al potere all'interno della nobiltà fiorentina avvenne quasi per caso nel 1633 suo padre morì improvvisamente lasciando veronica come unica erede di tutto il patrimonio di cibo malaspina questo evento causò sgomento tra i nobili locali che vedevano nella giovane veronica il pericolo di una donna al comando cosa impensabile per l'epoca tuttavia veronica dimostrò subito di essere all'altezza del suo ruolo prese il controllo delle proprietà di famiglia perseguendo una politica pratica e strategica fu in grado di ampiare ulteriormente i possedimenti di cibo malaspina acquisendo terre e beni preziosi aumentando così la ricchezza e l'influenza della sua famiglia ma la capacità politica di veronica non si fermò ai confini della sua famiglia fu coinvolta attivamente nella gestione di firenze partecipando a riunioni di governo prendendo decisioni importanti per il buon funzionamento della città e utilizzando la sua influenza per promuovere uomini di fiducia nelle posizioni chiave la sua presenza e il suo potere raggiunsero il loro culmine intorno al 1640 quando una serie di eventi si verificarono nella sua vita che avrebbero segnato per sempre la sua storia e il suo nome nella storia di firenze si dice che veronica venne accusata di aver ordito un complotto per detronizzare il granduca di toscana e prenderne il potere molti la ritenevano una donna ambiziosa e senza scrupoli pronta a tutto pur di ottenere ciò che voleva tuttavia non ci sono prove concrete di queste accuse e molti storici ritengono che si trattasse di una calunnia orchestrata dai suoi avversari politici la vita di veronica fu segnata fin da quando era bambina grazie all'intervento di maddalena d'austria vedova del granduca cosimo secondo dei medici a soli 15 anni venne data in sposa a jacopo salviati consigliere del granduca di toscana ferdinando secondo in questa situazione sembrava che fosse l'uomo ad essere obbligato al matrimonio a causa delle sue parentele influenti incluso il papato e del potere della famiglia cibo nel determinare le tasse sul territorio jacopo era considerato affascinante potente e vanitoso circondato costantemente da amici di alto rango e da molti nell'aristocrazia dell'epoca era consapevole del suo carisma e spesso si intratteneva con diverse ragazze in cerca di marito il che causò fin dall'inizio litigi con sua moglie la coppia si stabilì a firenze e il matrimonio fu un fallimento fin da subito veronica veniva considerata poco attraente e jacopo abituato ad attirare l'attenzione di tutte le belle donne che desiderava iniziò a frequentare con i suoi amici locali notturni chiamati buche che erano simili a case chiuse e frequentati solo da uomini in una di queste buche jacopo incontrò caterina brogi una 22enne considerata bellissima in tutta firenze e figlia di un tintore i due si innamorarono e cominciarono entrambi a trascurare i rispettivi coniugi la giovane caterina come jacopo era stata costretta a sposare il vecchio e brutto giustino canacci molto più anziano di lei caterina e jacopo continuarono a frequentarsi sempre più spesso e presto la loro relazione divenne nota a veronica cibo fiorenza lemanni amica fedele di veronica durante una funzione nella chiesa di san pier maggiore indicò alla duchessa l'amante di jacopo alimentando così la gelosia di veronica alla fine della funzione veronica affrontò caterina che senza alcun timore derise spacciatamente davanti a tutti accecata dall'odio per quella pubblica umiliazione veronica decise di eliminare la rivale assoldò bartolomeo figlio di giustino canacci che con la complicità dei fratelli francesco e giovanni fu felice di uccidere la matrigna con cui aveva avuto vari scontri verbali in passato nella notte tra il 31 dicembre 1633 e il primo gennaio 1634 bartolomeo e i suoi fratelli entrarono nella casa di caterina la uccisero e la mutilarono nonostante fosse visibilmente incinta poi fecero a pezzi il suo corpo e sparsero i resti per tutta firenze la testa di caterina fu messa in un paniere pieno di biancheria ricamata e consegnata a jacopo come regalo di capodanno sconvolto dal macabro ritrovamento jacopo si rivolse direttamente al granduca affinché gli assassini venissero processati e condannati tuttavia l'unico ad essere giustiziato in pubblica piazza fu bartolomeo mentre i fratelli vennero assolti nonostante fosse stata ritenuta la mandante dell'omicidio veronica cibo fu graziata dal granduca e esiliata a villa san cerbone una residenza dei salviati successivamente venne trasferita a roma nel palazzo salviati dove morì il 10 settembre 1691 all'età di 80 anni oggi all'ospedale di serristori che un tempo fu villa di san cerbone c'è una lapide che commemora questa terribile storia e molti sostengono che l'anima inquieta di veronica cibo si manifesti in quella che era la sua dimora si dice che il fantasma di veronica compaia durante i mesi estivi e durante le festività natalizie soprattutto nei corridoi degli uffici amministrativi il personale dell'ospedale afferma che il fantasma si manifesti con improvvisi colpi di freddo rumori sulle pareti sussurri e una nebbiolina biancastra che talvolta assume forma umana tra le testimonianze più frequenti ci sono quelle degli infermieri stessi che affermano di essere stati strattonati per la giacca e persino schiaffeggiati nei pressi delle sale operatorie nel 2000 in una stanza appena inviancata degli uffici dell'ospedale furono trovate impronte di scarpette su tutti i muri nonostante fosse stata chiusa a chiave la sera prima dallo stesso muratore nonostante gli sforzi di veronica per difendersi e dimostrare la sua innocenza il suo nome fu macchiato e la sua reputazione fu gravemente compromessa fu affidata ai reggenti di firenze e privata dei suoi diritti e dei suoi possedimenti divenne un'ombra di se stessa vittima di un destino crudele che la condannò all'oblio ma ciò che più impressionò la gente di firenze anche dopo la sua morte fu il destino tragico che colpì i suoi accusatori e i suoi nemici si dice che la vendetta di veronica si abbatteva implacabile su chiunque si fosse opposto a lei o avesse contribuito a screditarla la sua storia divenne leggendaria e nel tempo venne associata alla leggenda del fantasma di veronica cibo una figura spettrale che appariva i suoi accusatori per tormentarli nelle loro notti di riposo un'altra testimonianza risale a ottobre 2010 ed è raccontata da un'infermiera di cardiologia che ha visto una donna vestita di bianco in cima alle scale che portano agli uffici l'infermiera si chiese se la donna avesse bisogno di aiuto e tornando sul posto si accorse con stupore che la donna non c'era più era sparita senza scendere né salire le scale successivamente sull'angolo del muro è apparsa l'impronta di una mano che è stata chiaramente visibile a tutti nei giorni successivi in seguito il custode ha deciso di di cancellarla grazie a tutti